Per noi Lucani quella domenica del 23 novembre di 40 anni fa rimane scolpita nella memoria di ognuno di noi. I numeri di quella catastrofe ci riportano tutta la drammaticità di quelle giornate dove lo Stato non brillò in quanto a tempestività degli interventi, ma nel contempo, proprio in quella tragica esperienza, maturò la consapevolezza di istituire un servizio di protezione civile moderno ed efficiente. Così il capogruppo del PD Cifarelli nel ricordare i circa 3.000 morti, 9.000 feriti, 300.000 senza tetto e 150.000 abitazioni distrutte, oltre ai tanti paesi isolati per giorni, nonostante la generosità infinita dei volontari accorsi da tutta Italia e l'impegno incommiabile dei tanti amministratori locali. Nel corso degli anni, evidenzia Cifarelli, lo Stato ha stanziato circa 30 miliardi di euro destinati alla ricostruzione e allo sviluppo industriale delle aree colpite dal sisma. Oggi, a testimonianza di quanto fatto allora, ritroviamo gli esempi virtuosi degli insediamenti produttivi della Ferrero a Balvano e dei tanti piccoli imprenditori locali che hanno acquisito una matura e innovativa cultura d'impresa. In questi giorni difficili, conclude Cifarelli, nel ricordare le tante vittime e i tanti drammi collettivi e personali che hanno forgiato ancora di più il carattere dei lucani, non dimentichiamo il coraggio e l'abnegazione di un popolo che non si è lasciato fagocitare da un inennuttabile destino.